Lei che mestiere fa? Anch'io sono musicista. Farmacista? Oh, ecco l'amministratore, forza! Ciao, sei Benedetto Parisi? C'è posto per te! Può parlare? Questa può fa' tutto! Ho capito bene, te fai l'attrice, fai la modella, no? Mignotaro! Uè, e allora? È la mia sorella, è stata adottata. L'ha adottata un po' grandicella, la pupa però mi pare, no? È stata adottata a distanza dalla mia mamma. Tua madre ha fatto così tanto per me, che adesso mi piacerebbe davvero fare anch'io qualcosa per te. Bastardo! E quando parti? Domani. Tua madre ti manda un violonino di questa fattura e tu te la fai scappare. Quando partiamo? Per andare dove? Benedetto ti presento Jesus, il mio ex fidanzato. Bella sorpresona di merda che hai fatto. No, le ho detto che sei il mio ragazzo. Non sono mai piaciuti quelli così. Uè, avatar! Io sono 1,79 per 78 kg, sono perfetto praticamente. Io ho l'orecchio assoluto. Cioè? Min minore, questo. Ciao, chi si diverte? Chi si diverte? Almeno di un merito te l'hai adottata, no? Ehi, Dante! Sandrino! Cazzo, scusate. Sandrino! Lupita! Lupita è l'ex fidanzato. Io la madre è rispattata, guardi che ho mai reto. È tipico dell'isolazione. Parloci sul bambino. Il mondo l'è denormale come me. Sì, insolazione di tipo B. Arriviamo. Abbiamo pure un passeggero, il suo compagno. Ma che cazzo dici, sto compagno? Sono un amico. Non è... C'è un po' di pazienza. Sì, insolazione di cui. Grazie.